Ciao a tutti, papà di tutto. Ecco, buon nuovo video. Ciao a tutti. Anche io voglio fare un video che cosa c'è per me. Mia noia. Mia beauty da raggio. E cosa c'è? Mia noia. Forse la pagina. Tadam. Visto che la raggio è in terra del piscine e questo è arrivato timoramente. Mi sono andato a spostare. E qua. Iniziamo con questo. Mi ha detto che la raggio è in un video. Sono arrivato a raggi al nickel. Quindi ho dovuto comprare. E poi ci sono anche dei miei sarconi adatti. E ci sono anche dei miei sarconi. E ci sono anche dei miei sarconi. bambini. Sample. E la raggio frequente con il stato biologico di arena. Qui. bagno doccia e l'intimo con effetto biologico poi come deodorante ho la mini size del mio albombolo però è letteralmente l'albombolo di rocca senza spazio potete colpare anche il borsetto per i denti ho preso visto che ho la full size del misteri c'è la mini size del misteri e questo simpatico kit per l'albombolo per gli occhi è composto da spazzolino dentifiche, denti mentale e spazzolino piccolino interdentale un spazzolino molto molto carino un guanto di crino eventualmente anche un pallone che ti piace in casa e i miei salventi sono sempre utili questa è la mia vita da viaggio un pallone un pallone questo è solo per mettere un pallone poi dovrò fare anche quello pallone dei trucchi usare così della pallone poi la mia bella un pallone un pallone un pallone non si è mai scalfita quindi cosa c'è qui dentro? innanzitutto c'è una rostina dove metto anche le mie salve tutte le reti che erano gli pergeniti che prima ecco qui ecco qui questo è il pallone perfetto poi cucchialini vedo dal 대 e l'astichine per l'alberto al solito che vuole, sono fissata con la zucca del tessuto è quello dei costumi che si asciugano un turbantino per la testa per asciugare un po' per il confond poi questa è la fascetta che si mette sopra alla forza del paralecchio questo colore, sempre da Defton poi la cuffia poi il ciabattino sempre da Defton un po' di tempo un po' di piacere lì il costumi il costumi ha preso quest'anno che ha fatto la tutina vedete? si ricopre anche cosa vuole vedete? qui vedete qui molto più comodo che questo molto più comodo un altro che questo è quello che uso visto è molto più comodo solo in tessuto sempre da Defton per quest'anno calcini ma sono quattro che mi uso tutta la piscina per fare il corso che l'ho vestito vedete asciugano la mano nella base la mano si un altro quanto questo per 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 Spero che mi sia piaciuto e un saluto e un buon bacio.